Mi trovo a Lucco di Mugello. Sullo sfondo vedete il convento delle sore i Camaldolessi, soppresso nel 1808 dal governo francese, dopo quasi otto secoli. Nel piazzale antistante La Pieve di San Pietro si può osservare un'antica corte con pozzo e nel loggiatino troviamo una lapide chiniana dedicata ai caduti della Grande Guerra. Nel 1523 il pittore Andrea del Sarto, per sfuggire alla peste, si rifugiò con la famiglia a Lucco e dipinse la pietà per la chiesa del monastero. Che le monache nel 1782 cedettero poi al Granduca Pietro Leopoldo, infatti adesso la pala è alla Galleria Palatina a Firenze e al suo posto c'è una copia di Santi Pacini. Alla scena partecipano San Pietro, titolare del monastero, San Paolo e anche una Santa Caterina d'Alessandra, nelle cui fattezze è il ritratto della badessa committente. La cornice originale e nella predella Carlo Portello dipinse le storie della passione. Le vicende successive condussero la trasformazione del monastero in ospedale mugellano. Fino al 1989 e una dell'ultime bambine a nascere qui è stata mia figlia Valentina.